Non farti prendere dalla stizza, prendi la vita alla leggera con A tutta pizza. A tutta pizza è Ristorante, che propone tanti vini impregiati che potrete assaggiare sia a pranzo che a cena nella nostra accogliente sala. Pizzeria, con forno a legna e con una vasta scelta di gusti, dalle classiche alle più originali con prodotti sempre freschi. Oltre alle classiche pizze tonde, potrete trovare anche la pizza al metro. Panino teca, con pane preparato al momento nel forno a legna, dove potrete gustare squisiti panini, anche per chi preferisce un'alimentazione vegana. Bar, dove la mattina vi aspettano le colazioni dalle 6.30. Ad Iglesias, colosità e buon appetito, fanno Rimacorn a tutta pizza! Grazie a tutti! Grazie a tutti!